Un profondo vortice depressionario centrato sulle isole britanniche mantiene attivo un intenso flusso di correnti umidi occidentali sull'Italia. Un sistema perturbato attualmente sulla Francia interesserà le zone nord-occidentali a partire dalle prossime ore. In Toscana lunedì 5 ottobre molto nuvoloso, in nottate fino alle prime ore del mattino, con precipitazioni anche temporalesche, nuvolosità variabile nel corso della mattinata, dal pomeriggio minore probabilità di precipitazioni e schiarite più ampie, venti moderati di libeccio con rinforzi sulla costa livornese, mari molto mossi a nord dell'Elba mossi altrove, temperature stazionarie o in lieve calo le massime. Sul territorio provinciale molto nuvoloso, coperto con piogge diffuse, migliora dal pomeriggio. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 14, massima 20 gradi. A Castelnuovo Garfagnana e zone montane, minima 11, massima 18. A Via Reggio e sul litorale, minima 14, massima 20 gradi. Martedì cielo nuvoloso con locali piogge, temperature minime in calo, massime stazionarie.